E' il video con l'occhialetto, eh? E' il video con l'occhialetto, eh? E' il video? Quasi sono a preparare. E' il video, mi stavo a perdere il mio favorito. Ho il camerino raccomandato, capito? E' il video, mi stavo a perdere, mi stavo a perdere, mi stavo a perdere, mi stavo a perdere. E' il video. E' il video, mi stavo a perdere, mi stavo a perdere. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 E si conclude, la terza ripresa. La quarta ripresa. La quarta ripresa. La quarta ripresa. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.